Vediamo come si possono inserire dei grafici in Excel. Facciamo una prima ipotesi. Supponiamo di voler diagrammare questi dati e supponiamo che inizialmente stiamo in una cella vuota. Allora a questo punto dobbiamo fare inserisci. Iniziamo come sempre con un grafico a torta. Selezionate il tipo di grafico, poi abbiamo varie tipologie. Supponiamo che vuole fare una torta 3D. Poiché non abbiamo selezionato alcun dato, il grafico risulta vuoto. Notiamo poi che poiché siamo col grafico attivo, sono uscite tre schede, progettazione, layout e formato. Se noi non stiamo sul grafico, il grafico non è selezionato, queste schede non compaiono. Allora, andiamo a progettazione. A questo punto ci serve il comando Seleziona dati. Nella finestra di sinistra, clicchiamo su Aggiungi. La prima cosa che vuole sapere è il nome da dare a questa serie di dati. Se il nome esiste già, il nome lo possiamo scrivere all'interno di questa cella, oppure se esiste già in una cella di Excel, clicchiamo su questa cella in modo da automaticamente inserire come nome della serie il contenuto della cella. Ora dobbiamo dire dove sono i dati da diagrammare. Cancelliamo quello che c'è dentro e selezioniamo le celle che contengono i dati. Abbiamo costruito il nostro diagramma. Quella che vediamo sulla destra è la cosiddetta leggenda. Mediante i colori dovremmo essere quindi in grado, grazie alla leggenda, di leggere a quali gruppi etnici corrispondono le varie fette. Vedete che in questa fase la leggenda non è molto utile, in quanto riporta dei generici numeri, quindi non è utile per interpretare il nostro grafico. Noi vorremmo, per renderlo utile, che a posto di questi generici numeri comparissero i gruppi etnici, inglesi, tedeschi e così via, in modo da sapere immediatamente a quale gruppo corrisponde ogni fetta. Allora, dobbiamo andare a selezionar dati, modifica, e indicare le celle che contengono i gruppi. Notate che nella leggenda non compaiono altri sconosciuti, ma si tratta soltanto di dover allargare il diagramma. Un'altra cosa che possiamo fare, allora, il nostro grafico lo potremmo tenere come oggetto all'interno del nostro foglio, oppure inserirlo in un foglio dedicato. Per fare questo, nel menu progettazione, occorre il pulsante sposta grafico. Possiamo decidere di spostare il nostro oggetto, il nostro file, scusate, il nostro grafico, in un altro dei fogli esistenti all'interno della cartella, o cliccare sul nuovo foglio. Per creare un foglio dedicato al grafico, potremmo dargli un nome, oppure accettare il nome già esistente, e abbiamo creato il nostro grafico. Che altro possiamo fare? Nella menu progettazione, innanzitutto, vedete, abbiamo vari stili che possiamo utilizzare. Stili preimpostati, tra i quali scegliere. Un'altra cosa ancora sono i layout grafici. I layout sono organizzazione dei grafici. Per esempio, se scegliamo il layout 1, vedete, fa comparire, non c'è la leggenda, e fa comparire nomi, e percentuali in corrispondenza di ogni fetta. Il grafico 2 inserisce la leggenda, il grafico 3 non fa comparire nessun tipo di dati, la leggenda è il basso e non c'è il titolo, il grafico 4 fa comparire le quantità invece delle percentuali, e così via. Quindi sono vari modi di organizzare il nostro grafico. modi preimpostati. Se noi vogliamo avere maggiore libertà di azione, dobbiamo usare la scheda layout. Ad esempio, nella scheda layout, vogliamo inserire il titolo del grafico. Decidiamo se non c'è nessun titolo, se il titolo è sovrapposto, se il titolo è più distanziato dal grafico, la leggenda decidiamo se non ci deve essere, se deve essere in questa posizione, in alto, e così via. Poi, le etichette dati, i dati da far comparire in corrispondenza eventualmente delle fette. Allora decidiamo se devono comparire al centro, all'interno, ma alla fine della fetta, all'esterno, in posizione ottimale, poi altre opzioni. Decidiamo quali tipi di dati, il nome della serie, il valore, la percentuale. Chiaramente, se mettiamo troppe informazioni, rischiamo di rendere difficilmente comprensibile il grafico, quindi bisogna essere parchi. un'altra cosa ancora che possiamo fare, sempre usando progettazione, se il grafico, vogliamo cambiare il tipo di grafico, possiamo farlo usando questo pulsante, e per esempio trasformarlo in un histogramma, o che so, in un grafico a linee, in particolare, adesso, possiamo anche far vedere un'altra cosa per questi tipi di grafici. notate come sono per esempio i numeri da diagrammare sono molto grandi, quindi abbiamo dei numeri molto grandi, e quindi più difficili da leggere sull'asse verticale. E allora, per questi grafici che prevedono un'asse verticale, nella scala layout, abbiamo quest'ultima possibilità, assi, asse verticale principale, per esempio, gli possiamo dire di mostrare l'asse in migliaia, per cui invece di avere numeri molto grandi, abbiamo numeri più ridotti con le indicazioni che vanno interpretati in migliaia. Passiamo adesso al foglio clienti. In questo foglio, vedete, abbiamo un altro utilizzo di Excel. Excel viene utilizzato non per fare dei calcoli, ma per raccogliere una serie di dati. Allora, che cosa possiamo fare in questo foglio? Per esempio, la prima cosa che possiamo fare è mettere in ordine i dati secondo un certo criterio. Per esempio, voglio ordinarli secondo la città. Allora, nella scheda home ho questo pulsante ordine e filtra e posso decidere se ordinare in ordine alfabetico crescente o decrescente. Voglio ordinare secondo la data di nascita. Allora, mi proverrà dal meno recente al più recente oppure dal più recente al meno recente. Voglio ordinarli anche se in questo caso è una sciocchezza secondo il numero civico. Allora, dopo che questo condiene un numero, mi dirà dal più piccolo al più grande oppure dal più grande al più piccolo. e quindi notate che mi devo prima andare a posizionare nella colonna giusta. Se non sono posizionato nella colonna giusta allora devo fare ordinamento personalizzato e indicare quindi qua secondo quale campo ordinare. Notate come Excel apparentemente sia molto intelligente. Vi propone i tipi di dati secondo i quali ordinare. In realtà lui non fa nient'altro che prendere i dati da questa prima riga. Infatti se per esempio la vado a eliminare innanzitutto lui considera come riga di intestazione la prima riga cioè non capisce che sono già i dati di una persona vedete e li propone i dati della persona lei propone come se fossero le intestazioni a questo punto non mi resta che cliccare su questa posizione per deselezionarla e spiegargli che non c'è una riga di intestazione a questo punto lui non può fare nient'altro che invitarmi a scegliere fra le colonne A, B, C e così via. In realtà per questo motivo e per tante altre questioni è molto consigliabile avere sempre una riga di intestazione che permetta di comprendere facilmente che cosa abbiamo nelle varie colonne a questo punto è un po' a questo punto è un po' Grazie a tutti.